buonasera benvenuti a top 9 live il primo reality show che vi farà vivere la favola stiamo per offrire a qualcuno una notte a sorpresa una notte magica una notte top cosa accadrà ai nostri protagonisti adesso stanno lavorando da qualche parte sodo tra poco con la complicità di una persona li convinceremo a farsi rapire accetteranno speriamo di sì anche per voi che ci seguite da casa sarà un'avventura magica mettetevi nei panni delle nostre prede e divertite e poi cosa faremo? li cambieremo d'azio li porteremo via con un gruppo sconosciuti li infileremo in un'auto li trasporteremo in posti nuovi per loro a vivere esperienze curiose li porteremo a casa notte a onda o forse all'alba sono vestito con una canottiera una maglietta praticamente estiva questo tessuto è uno spolverino ha un peso assolutamente leggerissimo concepito per la prima dell'estate ma magia chiudendo si è in grado di affrontare fino a temperatura a 0 gradi praticamente è una seconda pelle posso stare in ufficio seduto tranquillamente al posto del meglio ad avere questo giubbotto oppure chiudendo affrontare il rigore dell'inverma poi c'è la magia dell'estate perché questo capo è assolutamente impermeabile ha un cappuccio anti zanzara chiaramente è diventato una borsa oma su tecnologia è data da una camera d'aria che è tra il tessuto esterno e il tessuto interno il tessuto interno è un cotone per cui può essere usato direttamente a contatto con la pelle e l'intercapedine che è all'interno è praticamente al 99 per cento di aria per cui praticamente trattiene tutta l'aria tutto il calore del corpo l'inverno trattiene il calore ed estate con un sistema di apertura consente una ventilazione e sostanzialmente tra l'esterno e l'interno ci sono più di pentagali e tu che sai che mi vorrei distruggi da me tanto rifugi su bene le angosce tu e non le vuoi dire non le vuoi dire su bene ma ti senti dovrei dire non le vuoi dire non ha dalla dire che non era l'intero e l'intero e l'intero e l'intero non la vuoi che ui le angosceskia sono già disponibili non c'è qualcosa da della vita per il sostanzialmente nel arco e l'intero e il nostro Grazie a tutti